Il tragico incidente registrato ieri a Teramo è il secondo infortunio mortale sul lavoro dell'anno avvenuto in provincia. Ieri intorno alle 15 un giovane operaio Ibrahim Dramey è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando insieme ad un collega. Quest'ultimo un 43enne di Atri è caduto su una bancata che lo ha salvato, mentre per Dramey non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione tutta ancora ad accertare, i due operai stavano ultimando l'installazione di un'impalcatura di ferro e sembra che uno dei due fosse impegnato nel passaggio di alcuni pezzi all'altro. Sulla morte del giovane senegalese di soli 24 anni in Italia dal 2017 è stata aperta un'inchiesta giudiziaria essenziale per spiegare il perché dell'ennesimo infortunio mortale, una tragedia che per i sindacati è una drammatica storia senza fine. Non si impara da quello che accade, non si impara dai numeri che drammaticamente ci continuano a segnare un quadro complicato e difficile in Abruzzo e in provincia di Teramo. 1.800 gli infortuni in Abruzzo nei primi due mesi dell'anno, quasi 500 in provincia di Teramo, già un infortunio mortale come appunto quello di Caprafico e ieri ancora una morte sul lavoro. Non si è ancora capito che si deve intervenire, che il tema non può essere sottaciuto, non si può limitare alla cronaca quando accadono incidenti gravi, ma dovrebbe essere la quotidianità di chi si occupa di queste cose. Il cantiere della chiesa dove la ditta stava lavorando, così come previsto in questi casi, è stato sequestrato e nei prossimi giorni verrà disposta all'autopsia. In queste ore dagli uffici della procura stanno partendo i primi avvisi di garanzia, atto dovuto in presenza di un accertamento irripetibile come l'autopsia, che consente agli indagati di nominare un proprio consulente. Il fenomeno si ripete e ripropone con forza il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro, in questo caso dei cantieri, che per quanto il settore sia dotato anche di strumenti specifici, mi riferisco a strumenti che hanno sede nella bilateralità, ad esempio le cassedili, che sono dotate appunto di strumenti specifici per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni. E quindi occorre assolutamente che si intervenga sul piano proprio dei controlli. Bisogna incidere maggiormente sul piano ispettivo, quindi i controlli degli organi istituzionalmente preposti devono essere maggiormente frequenti e più incisivi.